Il 2019 si è concluso da pochi giorni, tanti sono stati i giochi che abbiamo giocato l'anno scorso ed è giunto il momento, come ogni anno, di fare la top 10 dei migliori titoli. Quali saranno mai? Restate sintonizzati e lo scoprirete per il momento. Sigla! Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Cosmos. E io sono Fedro. E partiamo subito con la nostra decima posizione. Proprio cattivi, andiamo direttamente con la decima posizione. La decima posizione va a Bloodstained, Ritual of the Night. Gioco sviluppato per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Diciamo che è uscito su tutto. Dappertutto! È un gioco che ricorda tanto il genere Castlevania, Metroidvania, ma per forza perché è stato sviluppato dal mitico Koji Garashi. Koji Garashi, il padre di Castlevania. Ovviamente non mancano le reference, il fanservice, il feel dei giochi Castlevania, soprattutto la musica. Un gioco che mi sento assolutamente di consigliare. Onestamente la versione Nintendo Switch, soprattutto dopo le patch, non è che brilli, però sul resto è assolutamente consigliato. Un gioco indie che comunque è molto valido. Che era stato creato tra l'altro con l'ausilio di un Kickstarter. Certo, è stato fatto perché Koji Garashi ha detto, beh, la Konami ormai della saga non ne frega nulla, quindi ci penso io. Ci penso io e riporto in vita il feel originale di Castlevania. D'altronde ragazzi, la steelbook di questo gioco sulla versione PlayStation 4 è bellissima. Sì, è vero, confermo, vale solo per la steelbook. Nona posizione per Astral Chain di Platinum Game, uscito esclusivamente su Nintendo Switch. Un gioco action molto bello visivamente, uno dei titoli più belli visivamente su Nintendo Switch. Soprattutto in versione portatile, rende tantissimo, mantiene i 30 frame per secondo, soprattutto considerando tutto quello che avviene su schermo, anche perché non solo controllate il vostro protagonista, ma anche il suo legion. Quindi come se state utilizzando due personaggi allo stesso tempo. È un po' la fusione di tutte le meccaniche prese dai giochi della Platinum e loro stessi lo hanno ammesso. Sì, è un po' un manuale di testo delle meccaniche dei giochi Platinum Games. Certo, non aspettatevi una trama bellissima alla New Automata, però in ogni caso ha un mondo bellissimo, soprattutto con i design di Katsura. Sì, un po' cyberpunk, esatto, poi come dicevi il character designer è Masakatsu Katsura, il disegnatore di Ys e Videogirl Eye, per chi non lo sapesse. Quindi un personaggio, un mangaka di un certo livello. Di per sé è un gioco che è passato un po' in sordina, però io vi consiglio assolutamente se vi piacciono i action game. Sì, devi provare assolutamente per gli amanti degli action game, anche perché comunque ci sono molte missioni secondarie e il mondo non è vastissimo, ma sa regalare delle emozioni interessanti. Vi consiglio soprattutto, come al solito, cercare i documenti che spiegano di più sulla lore, perché se no non ci capite nulla. Ok, quindi nona posizione per Astral Chain. All'ottava posizione, il remake dei remake, ossia, attualmente, ossia Resident Evil 2 di Capcom, uscito su PS4, Xbox One e PC. Sinceramente, uno dei migliori horror degli ultimi anni, sebbene si basi su un gioco uscito nel 98, svecchiato, a mio avviso, perfettamente. Claire, Leon, resi benissimo. La stazione di polizia un po' modificata nel layout, ma che ricorda da vicino l'originale. Sinceramente, ho avuto davvero paura, in certi momenti, per via dei suoni ben ricostruiti, delle atmosfere oscure. Ho fatto anche qualche bel salto sulla sedia, quando qualche zombie spuntava all'improvviso, ma sinceramente è un titolo che mi sento assolutamente di premiare. Va giocato per gli amanti degli horror, anche perché sono poi state aggiunte delle nuove sequenze di trama, non lunghissime, ma abbastanza funzionali, basti pensare alla parte in più con Sherry, ambientata nell'orfanotrofio, in perfetto stile stealth. Oltretutto, sono stati pubblicati anche dei DLC gratuiti, che vanno ad approfondire qualche piccolo scenario di personaggi secondari, che io ovviamente ho giocato con grande gioia. Capcom si è proprio risollevata. Diciamo che poi la bellezza dei giochi della Capcom è che ti danno questa esperienza arcade e ti danno la voglia di rigiocarlo, tante volte fare run diverse. Sì, effettivamente Resident Evil 2 Remake non annoia mai. Tra l'altro adesso, con l'imminente uscita del terzo capitolo, del remake del terzo capitolo, all'interno del gioco è stata aggiunta una lettera di Jill Valentine. Quindi, motivo in più per giocarlo un'altra volta. Per concludere, Capcom, fai questo dannato Dino Crisis per cortesia! Lo vogliamo nella top del 2020, assolutamente. Quindi Capcom, se mai vedrai questo video, fai un remake di Dino Crisis bello quanto quello di Resident Evil 2. Alla settima posizione, a grande sorpresa, a grandissima sorpresa aggiungerei, abbiamo deciso di mettere Star Wars Jedi Fallen Order, gioco sviluppato dalla Respawn Entertainment, rilasciato per PlayStation 4, Xbox One e anche PC. Un gioco che riprende un po' tutte le meccaniche da altri giochi come Sekiro, come un Uncharted, come un Prince of Persia, che però, mescolati assieme, ha fatto venire fuori un prodotto proprio... Decente! EA è riuscita a pubblicare un gioco decente dalla trama e senza DLC, è pazzesco! E soprattutto un gioco di Star Wars, finalmente, che offre... Con tutti i crismi! Che offre finalmente una modalità, storia, single player, d'altronde senza DLC e robe varie. Pagate quei 60 euro, anche di meno, oramai. E avete un'esperienza completa. Completa, completa. Infatti ha sorpreso tutti, è stata la più grande sorpresa di questo 2019. Come dicevi tu, un titolo che riprende meccaniche da altri giochi di successo, come Uncharted o Sekiro stesso, perché la parata è chiaramente quella di Sekiro. Anche la questione dei posti dove si può salvare, che ricordano i bonfire dei Dark Souls. Quindi, in realtà, sì, è giocare un po' un Dark Souls più facilitato. Se si sceglie di giocare normale. Edulcorato sicuramente, perché come difficoltà non è eccessivo. C'è solo un problema di cui ho sentito parlare, ossia che se si alza la difficoltà diventa più difficile parlare perché c'è dell'input lag. Hanno giocato un po' male. Io sono un nabbo e ho giocato in normale perché non volevo soffrire. Ecco, il gioco ha tanti bug. Mi dispiace dirlo. Non mancano, come al solito, i cosiddetti bug dei giochi EA. Però, in ogni caso, consiglio assolutamente questa piccola side story di Cal Kestis dopo quello che è stato l'Ordine 66 nella saga. Quindi un gioco da giocare assolutamente per i fan di Star Wars, ma non solo. Sesta posizione per Judgment di Ryugagotoku Studio di Siga, uscito in esclusiva su PlayStation 4. Spin-off della saga Yakuza che io ho provato come primo gioco perché non ho mai giocato uno Yakuza. Anche io, e qua partono i dislike. D'altro no, c'ho alcuni giochi comprati o ricevuti col PlayStation Plus di Yakuza, ma non li ho mai toccati. Male, male, perché vanno giocati. E male, lo dico anche a me. E male, lo dico a chi non li ha giocati, anche se io predico. Marazzolo malissimo. Comunque, Judgment, titolo che ho preso a giugno al Day 1 che mi è piaciuto molto. Un investigativo barra action veramente intrigante dal punto di vista narrativo perché la trama parte in un modo, ossia sembrano le solite lotte, le solite faide tra famiglie di Yakuza, ma in realtà poi si scopre che c'è molto di più. Il protagonista, Takayuki Yagami, mi è piaciuto tantissimo. Un personaggio che funziona bene. Non so se ai livelli di Kirio Kazuma, di Yakuza, appunto, perché non ho avuto modo di conoscerlo approfonditamente, però un gioco che mi ha portato via un mese per giocarlo per bene. Un sacco di side quest divertentissime, tra cui quella in cui bisogna inseguire un maniaco sessuale che ruba le mutande alle ragazze, e un'altra ancora più divertente dove c'è un tizio a cui il vento porta via il parrucchino e bisogna inseguire il parrucchino per le vie. Classica comicità giapponese. Infatti sì, è bellissimo perché ha una parte di storia principale molto seria e delle side quest completamente fuori di testa, in perfetto stile Yakuza, perché mi hanno detto che sono così. Per il resto, come sempre, il gioco è ambientato a Kamurocho, quindi chi ha giocato a Yakuza un po' si sarà rotto le scatoline, perché è sempre ambientato lì, però per il resto, narrativamente, uno dei titoli che ho preferito, una narrativa veramente molto adulta, sembrava quasi di seguire una serie televisiva ben scritta. Infatti è un titolo che mi sento di consigliare. Tra l'altro tutto in italiano, perché finalmente Siga si sta decidendo a portare i suoi titoli, titoli che pubblica, tradotti in lingua nostrana. Quindi davvero, se avete voglia di indagare, esplorare, vivere una bella storia, Judgment va giocato. Infatti io ho preso il tuo consiglio e me lo sono comprato in fisico, devo solo giocarlo, quando troverò un attimo di tempo, assolutamente. Fallo, fallo e fatelo anche voi, altrimenti vi vanno. No, scherzo. Fatelo perché è una bella esperienza. Alla quinta posizione invece abbiamo... Il nostro amato Sekiro! No, come direbbe... No dai, Sekiro che comunque in ogni caso ha vinto il Game of the Year. È stato insignito del premio di Game of the Year ai The Game Awards, un titolo molto difficile, dalla difficoltà elevatissima, di From Software e Hidetaka Miyazaki. Però che offre tantissima soddisfazione. Se si impara a padroneggiare il sistema di combattimento, fatto di attacchi e parate, è quasi un rhythm game, se volessimo. Certo, effettivamente sì. In maniera particolare, un gioco che io ho giocato, non ho completato al 100%, perché sono il boss finale, ma ho droppato a un certo punto, perché era troppo difficile. Per il resto però, l'ambientazione giapponese, nell'era Sengoku, con samurai, nemici particolari, katane e... A me soprattutto piace la meccanica del braccio. Del braccio prostetico, esatto. Poi il braccio prostetico che può utilizzare diversi strumenti, è veramente una figata pazzesca. E comunque una trama un po' più, come dire, presente rispetto agli altri titoli From Software, hanno consacrato Sekiro ad essere uno dei giochi migliori di questo 2019, assolutamente. Il protagonista Lupo, poveraccio, è il personaggio che è morto più volte nella storia dei videogiochi, nonostante... Quindi Shadows Die Twice, in realtà no! Dica tanto, il sottotitolo, come hai detto tu, di Sekiro, Shadows Die Twice, è una presa in giro, però se volete una sfida veramente ardua che vi dà soddisfazione, Sekiro funziona. Funziona, il mondo di gioco poi è veramente grande, ha tanti segreti, c'è molto da perdersi. Diciamo che è uno dei titoli più belli di From degli ultimi anni, sebbene, sebbene, questo ci tengo a precisarlo perché molti sbagliano, non sia un Souls Die. Tra l'altro, altra cosa, Sekiro, non so se lo sapete, ma doveva essere un seguito, doveva essere il nuovo Tenchu, ma l'hanno trasformato in una nuova Hippie. Sinceramente, per quanto io abbia odiato Sekiro su certe cose, spero di vedere un seguito. Io voglio Sekiro 2, ragazzi. Così puoi spaccare un'altra custodia. Sì, perché io la custodia di Sekiro non ho spaccata, ma va così. Quarta posizione, per un gioco estremamente sottovalutato, Days Gone, uscito in esclusiva su PS4. Creato da Band Studio, i creatori di Siphon Filter, della serie Siphon Filter uscita da PS1, è stato un gioco che mi ha davvero sorpreso. L'avevo comprato con i ragazzi di 42Play per giocarlo e parlarne sul loro canale. Ero partito con basse aspettative, Sony non l'aveva pubblicizzato più di tanto, i commenti che si leggevano in giro non erano certamente positivi. Sì, perché poi quando il gioco era uscito, effettivamente era un po' pieno di bug. Era costellato di bug. Però, però, Band Studio si è rimboccata le maniche e pian piano ha fatto uscire delle patch già dai primi giorni che andavano a correggere ogni errore presente nel gioco. E sinceramente, devo dire che da quasi ingiocabile, che era all'inizio, è diventato estremamente giocabile. L'open world è grande, ha abbastanza cose da fare, ci sono tanti furiosi, ossia gli zombie, vengono chiamati così, e ripugnanti da far fuori, che è questa setta di psicopatici che mi adora. Come al solito non possono mancare. Però ha un bel open world post-apocalittico con zombie, con una trama salda, e un protagonista a cui ci si affeziona. Io ammetto di essermi affezionato di più a Deacon di Days Gone, e alla sua moto, perché è sempre in giro in moto, che è Sam di Death Stranding. Ma d'altronde non sei il primo che mi dice questa cosa. No, Deacon è scritto benissimo, Deacon di Days Gone è un protagonista a cui ci si affeziona. Io nella parte finale del gioco mi sentivo davvero vicino a lui. Poi, c'è anche da dire che viene molto sviscerato dal punto di vista umano, perché lui all'inizio della storia perde la moglie. Crede che la moglie sia morta, ma non è sicuro, e quindi si mette a cercarla, viaggiando in lungo e in largo con il suo amico Bowser. E nonostante qualche incertezza tecnica, è un titolo che davvero mi sento di premiare. Un'esclusiva PS4 che è stata poco pubblicizzata e che non ha avuto il seguito che avrebbe dovuto avere, nonostante sentito che abbia fatto delle buone vendite recentemente. Ma a volte la Sony fa delle decisioni che solo lei può capire da questo punto di vista. Però davvero, se non avete avuto modo di giocare Days Gone, fidatevi, andate oltre l'apparenza e alle prime ore, e troverete un titolo che vi saprà sorprendere. Con me c'è riuscito. Non possiedo una copia mia, perché l'avevamo comprata in gruppo, ma la comprerò, perché è un gioco davvero assolutamente in collezione. Una delle esclusive migliori su PS4, a mio avviso. nonostante so che tanti non saranno d'accordo con questa mia affermazione. E ci stiamo avvicinando verso la fine, ragazzi. Siamo arrivati alla top. Tra la top 3 alla terzo posto del nostro... Alla terzo posto. Alla terzo posto. Al terzo posto del nostro podio. E il terzo posto va a Devil May Cry 5. La Capcom colpisce ancora. E come hanno detto loro stessi, Devil May Cry is back. Onestamente, ragazzi, allora, c'è da precisare che è uscito su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Per me, attualmente, è il miglior gioco dal punto di vista grafico di questa generazione. Il Resident Evil Engine è veramente un engine della Madonna. E non solo quello, mi piacciono tantissimo le animazioni facciali. Dei personaggi. Dei personaggi, sì. Cioè, vedere un V con quel sorrisino, con quel ghigno mentre legge le sue poesie sul libro mentre ammazza i demoni. È una cosa incredibile. Ovviamente, viene mantenuta la stessa formula del hack and slash a missioni con la stessa comicità, con la stessa... con la stessa... Tamarrata, però... in senso positivo. Sì, sì, ma Devil May Cry è sempre stato un po' l'emblema della tamarragine nei videogiochi. Ma è una tamarragine che funziona. Devil May Cry senza quella non sarebbe Devil May Cry. Assolutamente. Ovviamente, la cosa bella in questo gioco è che potete utilizzare tre personaggi ciascuno con uno stile di combattimento di meccaniche diverse. Qua ritorniamo un po' su Sekiro perché abbiamo il nostro Nero che usa anche lui un braccio prosthetico con abilità diverse perché ci sono più versioni di braccio soprattutto quello di Kyrie che lasciamo stare che è un po' un po' così. Un po' così. C'è anche quello di Megaman bellissimo. Poi abbiamo il nostro V che usa delle salmon, un corvo, una pantera è un golem e dopo abbiamo il nostro Dante con il suo stile da Devil May Cry 3 dove può utilizzare vari stili di lotta. Cosa posso dirvi ragazzi? Se siete amanti del genere Hack and Slash penso che Devil May Cry 5 attualmente sia il migliore però anche Bayonetta li sta tanto vicino. vabbè sì alla fine Bayonetta è un po' un Devil May Cry al femminile. L'unica cosa che a me ha dato fastidio di Devil May Cry è legata alla versione PS4 del gioco in Europa. Cioè il fatto che abbiano messo delle maledette censure sul culo di Trish perché mi devi andare a mettere la luce sulle chiappe? Qual è il problema? E anche su Lady d'altronde. E su Lady perché? Perché Devil May Cry è anche questo? Andate a fanculo bastardi voi le vostre maledette censure. Scusate. Sì che poi in realtà non capisco perché in America le hanno tolte e da noi le hanno lasciate. Almeno toglietele da per tutto. Il paese dei perbenisti quindi bisogna mantenere no toglietele toglietele se no non ve lo compro più perché io non l'ho preso scherzo però a parte questo però allora in realtà comunque la Capcom devo fare i miei complimenti in generale perché da quando è uscito Resident Evil 7 sono tornati sui loro passi è stato un po' la renaissance in questo periodo con tutti i loro giochi e speriamo che anche Devil May Cry 6 anche se spero che non ci impiegano altri 5-6 anni a farlo terrà la stessa qualità. Beh il tempo comunque porta sempre titoli di qualità quindi noi ci crediamo Capcom più di te forse. Ah la seconda posizione abbiamo una grande bella sorpresa che ci è stata offerta quest'anno. Esatto Coppa d'argento scusami No tranquillo Coppa d'argento per Luigi's Mansion 3 uscito in esclusiva per Nintendo Switch titolo che è il primo Luigi's Mansion che io ho giocato e che mi ha molto sorpreso dal punto di vista grafico è il più bel gioco importatile su Nintendo Switch io sicuramente l'ho visto di meglio assolutamente sì assolutamente sì ma è sempre stata una parte importante della saga Luigi's Mansion già il primo sul Gamecube era molto avanti dal punto di vista grafico dovevo utilizzare anche una modalità 3D che però non l'hanno più messa sul Gamecube è molto bello poter rigiocare questo genere soprattutto adesso che c'è anche la modalità coop con il Luigi con il Luigi che sarebbe gommi Luigi in italiano traduzione un po' così però è un gioco che ha delle ambientazioni ricche di dettagli è bello poter aspirare tutti gli oggetti con la nostra poltergeist ed è un po' diciamo l'alternativa horror di Nintendo ovviamente quell'horror un po' horror comico horror comico esatto tipico di Nintendo che comunque abbiamo già visto anche negli altri Luigi's Mansion il poltergeist per aspirare le cose è una delle armi più divertenti di sempre riprende quel feel di Ghostbusters si si fa molto Ghostbusters però il gioco è molto bello perché è un mix tra avventura puzzle game e appunto horror però in questo caso specifico nel 3 set in un hotel pieno di fantasmi si l'hotel Miramost esatto e Mario Peach e i Toads vengono rapiti bisogna cercare di salvare e quindi tocca al nostro Luigi Fiffone salvare la giornata come al solito esatto il coprotagonista che diventa protagonista a differenza di Mario che si vede per un attimo ma non ha nessun ruolo come al solito in realtà come in tutti i giochi di Luigi Fiffone esatto perché la scena è del buon gigino comunque se avete una Switch è un titolo che davvero ci consente va giocato è solo da avere in collezione cioè anche la cover del gioco fisico è meravigliosa no veramente forse la migliore senza il forse la migliore esclusiva Switch di quest'anno punto non ci sono storie first party prima di passare alla medaglia d'oro due piccole menzioni d'onore per due titoli che abbiamo amato uno per ciascuno la mia menzione d'onore va a un indie game a Gris di Nomada Studio del barcellonense spesso si possa dire barcellonense Nomada Studio un gioco molto bello dal punto di vista visivo molto artistico in cui si comanda questa ragazza in un viaggio onirico in cui cerca di sconfiggere la depressione lei si ritrova inizialmente in questo mondo senza colori mano a mano che la sua avventura proseguirà sbloccherà ulteriori colori e il mondo da grigio Gris appunto Gris tra l'altro anche il nome della protagonista comincerà a diventare colorato proprio come quando si esce dalla depressione si vede tutto grigio e quando si comincia a stare meglio i colori tornano una bellissima allegoria che io mi sento di premiare dal punto di vista audiovisivo i ragazzi di Nomada Studio hanno fatto un capolavoro bellissime le geometrie delle rovine che si trova ad esplorare bellissime le musiche e soprattutto rilassanti le ambientazioni sono sceso in una caverna in una delle mie ultime partite e c'era un'atmosfera bellissima è un gioco che va giocato dal mio punto di vista sotto le coperte al caldo in un periodo invernale come questo e se vi interessasse è uscito su Switch PC e PS4 la mia menzione d'onore invece va a Persona Q2 Cinema Labyrinth uscito in esclusiva su Nintendo 3DS e penso l'ultimo gioco a Nintendo 3DS che mai prenderò o che mai uscirà perché ormai 3DS ovviamente è uno spin off su quella che è la saga di Persona sviluppato dalla Spike Chunsoft e fatto praticamente dallo stesso team che hanno sviluppato l'Eatrian Odyssey è un dungeon crawler praticamente in prima persona che premia tantissimo la creazione della squadra ad avere le giuste abilità per per ciascuna situazione e mostri ovviamente vengono riportate certe meccaniche di Persona e avete il cast di Persona 3 di Persona 4 e di Persona 5 però è il cast di Persona 5 ad essere i veri protagonisti ovviamente non manca la bellissima musica che fa la regola che ha reso famosa la saga di Persona ed è bello vedere tutte queste interazioni tra questi cast che in realtà di per sé non si potrebbero incontrare tra di loro loro non interagiscono mai al di fuori solo in Persona Q diciamo che la particolarità di questo titolo come anche con l'Eatrian Odyssey è poter disegnare la propria mappa sul secondo schermo del 3DS anzi siete obbligati perché così potete segnarvi tutte le scorciatoie tutti i boss tutte le aree pericolose tutte le meccaniche particolari perché ciascun dungeon è diverso nella sua esplorazione o a piani o magari bisogna attivare l'elettricità nella città per poter aprire una porta quindi in realtà dovete per forza sapere bene disegnare e usare tutte le icone che il gioco vi offre durante la creazione è un gioco che vi consiglio assolutamente se siete fan di persona se vi piacciono i dungeon crawler in prima persona e soprattutto un sistema turni veramente ben pensato lo preferisco di più a quello del Persona 5 originale devo essere sincero quindi stiamo parlando di qualcosa da provare indubbiamente e ci siamo ragazzi siamo arrivati in cima al podio alla coppa d'oro alla medaglia d'oro di questo 2019 d'altra parte precisare che a differenza dell'anno scorso quest'anno in realtà siamo d'accordo sul primo posto siamo d'accordissimo l'anno scorso avevamo assegnato ognuno un premio ad un gioco lui a God of War io a Red Dead Redemption 2 quest'anno un titolo ci ha colpiti talmente tanto che abbiamo detto non può essere altro che i Game of the Year per entrambi è un'esclusiva Switch e penso che si è già capito di quale gioco parliamo è un'esclusiva Switch ragazzi al primo posto c'è Fire Emblem Three Houses un'altra grande sorpresa che ha appassionato me che odio gli strategici a turni agli strategici a turni un gioco che è perfetto sotto quasi ogni aspetto ad eccezione della grafica ad eccezione della grafica che si però ci passiamo sopra perché tutto il resto è veramente ai massimi livelli penso che non ci sia nessun gioco che io abbia mai giocato che riesca benissimo a spiegare tutta la sua lore semplicemente parlando con dei personaggi all'interno di un'unica hub di un'unica hub infatti in Fire Emblem Three Houses ci sarà solo una locazione da visitare in 3D che potremo esplorare che è il monastero del Gareg ma come ben saprete o se non lo sapete ve lo diciamo adesso in Three Houses voi interpreterete un insegnante Bileth che potrà essere sia di sesso maschile o di sesso femminile a seconda della vostra scelta iniziale Bileth protagonista silent protagonist ma che comunque ha una sua personalità che si capisce dalle risposte che si possono dare esatto e che comunque riesce a trasmettere qualcosa al giocatore a differenza di altri protagonisti silenziosi il lucente il lucente e tanti altri che adesso non staremo ad elencare Fire Emblem Three Houses oltretutto innova tantissimo all'interno della saga stessa perché è il primo gioco ad offrire una location in full 3D da girare molto grande tra l'altro e che si espande mano a mano che si prosegue con la narrazione una narrazione molto lunga che si divide in quattro run differenti tutte da giocare se si vogliono scoprire i segreti legati alla narrativa aggiungete a quello una host bellissima soprattutto ciascun personaggio che sono veramente tanti veramente scritti bene e soprattutto doppiati per ciascuna linea ed è qua di nuovo che ritorna al discorso che secondo me il doppiaggio serve tantissimo per caratterizzare meglio un personaggio infatti come dici tu non c'è alcuna linea di dialogo non esistono linee di dialogo in Fire Emblem che non siano doppiate tutto è doppiato penso sia un unicum nel genere perché io non ho ricordi di altri giochi che avessero ogni singolo dialogo doppiato tra l'altro come dici tu il doppiaggio conferisce una grande personalità ad ogni personaggio che incontreremo infatti faccio i miei complimenti al cast inglese che sono veramente stati bravissimi e ringrazio Patrick Seitz che ha fatto da direttore che anche lui è un voice actor ed è molto bravo c'è stata solo una piccola controversia per quanto riguarda la voce di Bylet maschile che è stata sostituita perché l'attore principale che era stato scelto ha combinato qualche problemino questa cosa c'era stata anche con Judgment non l'abbiamo detto prima ma uno dei personaggi di Judgment è stato rimodellato da zero perché l'attore era stato beccato a sniffare cocaina comunque al di là di quello Fire Emblem è l'apoteosi dal mio punto di vista da quel poco che ne so da quel poco che ho potuto vedere del JRPG strategico a turni un JRPG strategico a turni che riesce a coinvolgere anche chi non è appassionato al genere il setting scolastico i numerosi personaggi ben disegnati e caratterizzati fino nei minimi dettagli è del gatto nel mio cuore insieme ad Annette un combat system molto divertente che si evolve piano piano d'altronde con una musica dinamica che dà tantissimo hype durante gli scontri e si come dici tu poi è un sistema di combattimento che regala tante soddisfazioni è a turni bisogna ragionare molto ma allo stesso tempo è tanto dinamico bellissime poi sono le animazioni di quando i personaggi attaccano gli avversari soprattutto gli attacchi critici si davvero si riesce ad avere tanta tanta ma tanta soddisfazione a combattere nonostante essendo uno strategico le battaglie durino molto non peraltro d'altronde gli game awards ha ricevuto il miglior gioco strategico d'altronde meritato se non lo vinceva mi arrabbiamo no no almeno quello dai è stato un premio assolutamente meritato ed è un gioco che io davvero consiglio di provare a tutti gli appassionati di dare una possibilità di giochi giapponesi o di jrpg magari semplicemente a turni ma non strategici perché veramente io difficilmente sono riuscito a trovare un gioco con così tanti personaggi e così scritti bene forse lo erano i vecchi sui coden che io purtroppo non ho giocato però davvero ci si affeziona alle persone che si trovano in giro per il garlic quindi onestamente se lo merita tutto il premio di gioco dell'anno perché ha saputo innovare all'interno di una saga che ne aveva bisogno da quanto dicevano in molti si questo assolutamente si speriamo che continui su questi passi d'altro ci sarà anche un season pass che amplierà con una modalità storia nuova da quello che so si 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 no davvero un titolo che boh ho già voglia di giocare ancora anche io devo rifare tutte le altre run perché l'unico modo per poter capire la trama a 360 gradi la sua interezza dovete farvi tutte le run se no non c'è storia e non vi annoierete questo ve lo possiamo assicurare anche perché le sorprese saranno sempre dietro l'angolo come detto prima si poteva fare qualcosina di più sul fronte tecnico ma va bene così va bene così a parte la grafica non è tutto a parte le mele si le mele mercato quella lì quelle me le ricordo ancora comunque ragazzi questo è tutto questa è stata la nostra top del 2019 vi trovate d'accordo abbiamo detto delle castronerie assurde per non dire di peggio tanto so che ci saranno due giochi in particolare che vi verranno detti come mai non le avete come mai non le avete messo death stranding oppure pokemon o pokemon perché death stranding ragazzi è un bel gioco ha una bellissima trama ci ho fatto un'analisi andate a guardarvela volete vedervi anche quella di pokemon c'è anche quella di pokemon però death stranding non è un capolavoro è un bellissimo gioco è un gioco che però non merita di stare nella top di quest'anno perché ci sono stati dei titoli a mio avviso migliori e che mi hanno dato di più e penso la veda allo stesso modo tanto su pokemon mi sono espresso già tantissimo sui server e quant'altro quindi ragazzi lo dico colgo questa occasione perché c'è chi dice che su death stranding sono un venduto che l'ho elogiato troppo death stranding mi è piaciuto ma non è un gioco da top e non è un capolavoro fanculo a kojima che deve essere sempre esagerato con questo mistero bel gioco ma non capolavoro io aspetto il prossimo e spero sia un horror comunque ragazzi scriveteci qua sotto la vostra top vogliamo sapere la vostra top del 2019 e noi ci rivedremo per la prossima top prima del 2020 perché ce ne sarà un'altra di cui però per il momento non vi svegliamo nulla come al solito siete i benvenuti sul nostro server discord se volete parlare con noi o con gli altri membri del gruppo lo mettiamo nella descrizione trovate in descrizione il link per accedervi io farò la live di pokemon più avanti quindi siete i benvenuti a guardarlo farò l'annuncio di quando esattamente il giorno l'ora e soprattutto se sarà su youtube o su twitch si perché twitch è ormai alle porte per noi tra poco apriremo il canale e probabilmente le live le live verranno spostate lì quindi ragazzi se volete seguirci in live vi consigliamo di cominciare a fare account twitch perché così almeno potete commentare comunque vedremo sicuramente qualcosa su youtube rimarrà se youtube me lo permette final fantasy 9 verrà portato qui fino alla fine dopo le live del martedì si sposteranno su twitch comunque ragazzi questo è tutto da fedro e da cosmos e da cosmos noi ci vediamo alla prossima lasciate un like lasciate un commento l'ho già detto scriveteci assolutamente la vostra top la top 10 ah la notte qua sotto e ci vediamo alla prossima buona serata buona serata ragazzi buona serata buona serata Grazie a tutti.